E la strage siriana è il tema scelto del Movimento Giovanile San Francesco al fine di alessire l'altare della reposizione nella chiesa omonima retta da Don Giorgio Cilindrello. Un bombardamento, un gas che si propaga e causa morti, tra cui molti bambini. Le luci intermittenti sul tetto sono il simbolo dell'incursione aerea che ha ridotto la città in macerie. Il fumo simboleggia il gas chimico che ha provocato la strage di tanti innocenti. Per noi ieri è stata una giornata abbastanza importante perché abbiamo fatto memoria dell'istituzione di Gesù come pane eucaristico, questo Dio che si fa uomo e si fa per noi pane. Nello stesso tempo la chiesa, attraverso quelli che sono i suoi riti, attraverso quelle che sono le sue liturgie, alla conclusione della celebrazione si porta ad adorare Gesù vivo e presente nell'eucaristia presso gli altari della reposizione. Un tempo meglio conosciuti, diciamo così, come sepolcri. Quest'anno i ragazzi del Movimento Giovanile, durante un anno di percorso di formazione, nell'ultimo ritiro hanno pensato, ideato questo altare, che sicuramente lascerà un po' molto sgomenti perché non lo si immagina così. Ma dai ragazzi è uscita questa riflessione. Cosa si fa oggi dinanzi a queste stragi? Non possiamo rimanere indifferenti. Diversamente scadremmo come è avvenuto con Auschwitz, no? Dove lì ci si interroga dove era Dio. Noi siamo convinti che Dio c'è ed è presente, è presente accanto alle nostre tragedie. Ma questo Dio è per noi segno di speranza. Ecco allora i ragazzi che hanno voluto offrire questa tematica a tutti, perché il Giovedì Santo non scada nella teatralità o se vogliamo nei viti, ma si faccia a memoria di un Cristo che per noi si è fatto pane, si è crocifisso sulla croce e per noi è risorto dando a noi la vita. Oltre ai detriti, oltre ai corpi esanimi, oltre alla cultura della morte, sullo sfondo si intravede l'abbraccio primordiale di Dio che rialzando l'uomo dal peccato, dal differenza e dalla morte lo restituisce alla sua bellezza. La morte di questi bambini è una strage in cui noi e tutti non possiamo fare silenzio. È un argomento abbastanza toccante per tutti, perché è stato veramente un latrocino, un genocidio di bambini innocenti. Noi come giovani, soprattutto anche noi come cittadini di gelo, comunque cittadini del mondo, dobbiamo soprattutto restare molto fedeli alla nostra fede, perché è quella che comunque ci porterà sempre alla nostra salvezza, nella nostra resurrezione, quello che sarà la resurrezione. E non possiamo fare silenzio di fronte a un genocidio che è quello dei bambini siriani con questo gas che ormai ha combinato moltissimi danni.